Uè a tutti ragazzi, noi siamo i qualcosi a caso, io sono Paperplane e lui è... Provate a indovinare? Veniamo in hamster! Ok perfetto, adesso siamo su... Territory War Troee! E' una cazzo di figata, se non l'avete mai provato provatelo Solo che la mia modalità storia non ho ancora capito come funziona, quindi faremo versus offline Qua non si possono mettere i nomi, quindi cos'è sta roba? E' una figata Che schifo! Va bellissimo, vai Va bene, via Guardate che cavolo di figata che è E' strabello questo scenario poi Qua bisogna saltare scusa Sì Sontra i fosi qua Ah sì, forte Ok, guardate qua le nuove armi Vabbè adesso uso granata perché non posso fare altro però Guardate qua Inchinatevi di fronte alla forza di Territory War Guardate che cavolo di forza! Troppo, ma poi è fatto, cioè... è fatto stra bene tutta la grafica, c'è tutto alla pe... Vediamo un po' Sei sicuro di usarla adesso? R.P.G. Spara! Adesso siamo un pochino gasati perché è fortissimo, guarda quanto distante! Guardate com'è figo, come spacca ste robe! E sapete il mio amico Gnami Hamster è molto contento che siamo riusciti a fare Territory War E quindi adesso in sonore sparerò una granata contro di lui e muori! Canestro! Ci mancavano i nostri epici canestri Sì! Sì! Veramente! Guardate che roba ragazzi! Io amo sto gioco! Sappiate che lo faremo... Io amo la pizza! Sì! Lo faremo più spesso questo gioco perché è veramente una forza incredibile! Solamente che non riesci a colpirci perché siamo stupidi! A parte quello però c'è il cane! Non! Ho provato il non! Sì! C'è? La costruzione! Sì! Possiamo costruirlo! Ma si poteva anche ruotare o...? No! Ma si poteva? Cosa ho fatto? Eh... Boh vabbè! No vabbè! Userò il... 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 Teleporter! Guardate questa cosa! È troppo forte! In pratica quando si spara... Spara! Arriva! E ti teletrasporta! Una figata assurda! Vero? È troppo! Perché sono acceso! Sono un idiota! Oggi parliamo come... Io sono gasatissimo di sto gioco perché è veramente una figata! Ripeto che... Mi sento dopo Minecraft io quando uso il piccone in sto gioco! Guardate che roba! Tutti là! Che pensano! Poi guardate come si fermano! Si fermano a pensare! Perché è una pausa! Cazzo 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 cazzo! Non ho caduto! Che coglione! Allucinante che sei! Mi sento che io hai vita della storia! Veramente! No! Player 3! Che... Eri così giovi! Canestro! Valeva 10 punti questo! Mi è veramente... Maglio bastare un salto! Che... Finissimale te! Esatto! Weebon... Facciamo, facciamo, facciamo... RPG! 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 Rimbardo! No! No! Che scello! Che scello! Sto iniziando di merda tantissimo! Io sono partito stranamente bene! A presentare gli scenari! C'è troppo figo! Puoi fare un sacco di cose che non so che vuoi fare! Quell'entendolo in bagno! In bagno! Ok! Io uso... La... La pistola! Che posso fare... BOOM! Come? Un rifle dovrebbe essere... Sì! Vediamo un attimo... Guardate qualche roba... Sì, qua sono i miei... Sì, qua sono i miei... Sì, qua sono i tuoi tizi qua... Aspetta... Via, 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 via... Hai ammazzato il tuo, lo sai? Sì... 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 Vediamo... L'ultimo mio colpo di questa merda... Vediamo come fallisce... Gli hai colpito uno... Ma... Fa così poco di danno... River Plain che cerca di dare testata al muro per diventare più intelligente ma non so se ci riesce... Proviamo... Sì... Allora facciamo una cosa... Allora facciamo una cosa... Te le porti... No... Un altro brumi... No... Sono spesi nell'aria... Se il volo a casa come minecraft... Vai... E' sparta... Cosa facevano quelli che avete fatto... Non ho fatto in cadere... No... No... Che fin... Guardate adesso cosa userò... Userò l'arma più figa di tutti... Il mortaio... Il mortaio... Ah... Che coglione... Mi sono salvato... Eh beh... Se ci scivolo... C'è tro... Vaffan headshot... Headshot... Sentite come lo dico... Cioè... In un modo troppo... Da Paragin... Da Paragin... Parte... Con una... Arma... Fortissima... No... Il lanciatore di acido... Non l'abbiamo ancora usato... In questa piantata... Vai... Morisci... Guardate qua... Si... Ha lasciato... Che resta lampeggiante di verde... Non ha lasciato... Troppo... C'è per un po' resta lampeggiante di verde... Ma... Io sono... Aspetta... Stai zitto... Infatti... Ah... Guardate... Ho un attacco di mal di pancia... Mannaggia... Ho un attacco di... Mal di pancia... Pazzesco... Minecraft... Sta per finire il tempo... Muoviti... Boom... Cosarti... No... Stronzo... Ma... Che cazzo... Come fa ad essere ancora viva? Ah... E' lì che fluttura il vuoto... Questa... È... La... Mezzia Terme... Sì... Mi sono creduto... Vaffanculo te la Mezzia Terme... E la... Spezia Terme... Terme... Fanculo... C'è... Cavolo... Ci speravo che non sbagliavi... Ho fanculizzato la Mezzia Terme... Per il potere di Minecraft... Vai... PQRXY... P***o... BAMMETE... Merda... Mi prendi eh... Pfff... Non l'ho mai preso... Mannaggia... Ho fatto solo un buco enorme... E basta... No... Grazie per avermi fatto la feritoia... Per... Che... Headshot... Merda... Ho perso... Guarda... Ho fatto la feritoia... Per ammazzarti più semplice... Sarà molto difficile... Beccarmi... Mizzica... Hai beccato l'unico pezzettino che era... Ho scoperto... Femm... Perchè... Meno 70... E... Sei morto... Vienta... Questa montagna strabella... Oh mamma... Parto io... No... Parto io... Ah no... Parto io... Parto io... Perché hai perso... Fa schifo... Aidi... 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 Le caprette ti fanno... Vaffanculo... Che cavolo... Sali per i monti... E... Cavi per i monti... E... Fai la per i monti... Un... Dementia... E' il monte... E' il monte Cervino... Peccato che... E' stato scavato le formiche... Cosa faccio... Cosa faccio... Cosa faccio... Cosa faccio... Cosa faccio... Aaaaaah... No... Respondate una piattaforma... Azzurro... Pfff... Ma come cavolo... Pensa... Pensa... Minecraft Adventure... Tre punti... Pfff... Minecraft in due versioni... Pensa... 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 L'RPG... Oh... Merda... Mi fai malissimo... Non lo fare... Ah... Ti sei fatto... Io... A me meno 70... A me meno 40... Eh... Non mi frega niente... Le caprette... Ti fanno panna... Cosa faccio io? Mi colpisci con l'RPG... Esatto... Quindi fate i dovidarvi... Ok... Stronzi... Non rinvete tutti... Ma che si fa... No... Però... Meno 70... Meno 45... Non me ne frega niente... C'è quanto male che ti ho già fatto... Si farai ancora l'RPG... Conoscendoti... Ma che mi serve l'RPG... Quando ho le... Munizioni limitate... Sapete... Io sono Tirtio... E faccio anche... Headshot... No... No... Gli attacchi spastici qua... Lalalala... Dove è l'RPG... E' finito... Ma vaffanculo... Non mi piace così... Non ci succede niente... Guarda... Se meno 60 è buono... E io con l'RPG... Quanto faccio? Con l'RPG... Ha ha ha... LOL... Adesso... No il mortale... Stronzo... BOOM... Ma che face... E' la cosa più amica della storia... Due doppia... Nooo... Non ci va a fuggire... Dovina cosa succederà dopo? BOOM... Headshot... In giro... La neve bagnata di sangue... E' una cosa troppo forte... C'è un troppo... Un becchio di sicuro invece... Pfff... Ti sei beccata da solo con un... Bene... Ho perso lei... Però guardate cosa farò... L'autodistruzione... Due doppia... Eh... Due tre... Uno più un mordaio... Guardate quanto male gli faccio adesso... Dai adesso... Dai muoviti... Meno 35... E sono... Ti ho ucciso con una picchionata... Ragazzi... Colpo finale a piccola... Io devo dire solo una cosa... E' fortissimo sto gioco... Quindi... Il video... Continueremo a fare Territory World 3... Quindi se il video vi è piaciuto... Mettete mi piace... Iscrivetevi... Individete... E al prossimo appuntamento... Ciao ciao ciao... E morirete con dei piccoli piccoli...